Buongiorno Delido, oggi puntata veramente ricchissima, anche perché ieri non sono riuscito a farla, quindi devo prendere un po' delle robe di ieri e riportarla in quello di oggi, ma nel frattempo ci sono aggiunte due cose che non posso evitare di menzionare, quindi 31 ottobre, domani naturalmente è festa, quindi faccio proprio salto così, da un giorno all'anno, ormai non è più daily questo podcast, è quasi daily e va bene così. Volevo approfittare prima in questa introduzione per ringraziare Codemotion e Grusp, che sono le due realtà che mi hanno ospitato sui loro palchi la scorsa settimana, Codemotion Milano sono stato in veste di MC, che è il nome che si dà oggi al presentatore sul palco, quello che accoglie gli speaker, li presenta, poi gli gira le domande del pubblico, per tutti e due i giorni a Codemotion sono stato lì in questa veste, e poi invece Grusp, che ha organizzato il ReactJS Day a Verona, lì invece sono stato presente in forma di speaker, ho portato un mio talk su un confronto tra React e altri framework, insomma, molti di voi mi avranno visto, ci siamo fatto un sacco di chiacchiere, ci siamo visti in questi giorni, ma soprattutto l'organizzazione è stata veramente fantastica, soprattutto Grusp, che mi ha visto in una forma fisica, diciamo, traballante e si è subito spesa per assistermi, ma va bene, e invece Codemotion che ha messo in campo veramente degli sforzi notevoli per poter portare a caso un evento partecipatissimo, e con tantissimi speaker, tantissimi MC, che dovevano essere in qualche modo gestiti, no? Sia prima che durante, che poi dopo l'evento, e c'è riuscita, secondo me, magistralmente, quindi, a entrambe queste realtà, io non posso far altro che ringraziarle e sperare che mi invitino di nuovo, o insomma, accettino le mie submission nuovamente, nel prossimo futuro, perché mi piace tantissimo far parte di queste community, e di questi eventi, spero anche che sia così per chi è seduto in platea e mi osserva a fare, insomma, i miei show sul palco. Ma sto divagando, dicevo che ho un sacco di cose da dire, quindi è bene tuffarsi nelle news del giorno, che non sono neanche più newsissime, perché appunto vengono da qualche giorno fa alcune, ma andiamo. Allora, qua bisogna partire con Next.js, perché c'è stata la Next.js Conf la settimana scorsa, e tutta internet, o meglio, la parte più frizzantina di internet, non ha fatto altro che creare meme e lanciarsi in opinioni sulle controverse nuove feature di Next.js 14, che in realtà la controversa feature è una soltanto, le altre più o meno sono state accolte in sordina, ma facciamo così, vi elenco rapidamente, perché secondo me non c'è più molto da dire di quello che è stato presentato in Next.js 14, uso il blog post ufficiale di Next.js appunto, si parla intanto di Turbo, Turbo Pack, in realtà, è il nome del compilatore, del bundler, che è stato realizzato da Vercel per Next.js e che non è ancora stable, cioè non è ancora sostituito webpack per le build di Next.js, ma si sta avvicinando alla sua forma finale, ecco, e quando sarà disponibile? Probabilmente dalla prossima release, perché sarà messo, adesso si può usare con il flag meno meno turbo, quindi lanciando Next.dev con il flag meno meno turbo, si usa Turbo Pack, ebbene, quando sarà disponibile? Quando tutti i test della codebase di Next.js passeranno con Turbo Pack? Al momento il numero di test che passano è del 91.8%, lo posso dire perché c'è un sito apposta che si chiama arwiturboyet.com, dove appunto Next.js sta mostrando quali sono i test che passano e quali non passano, e quindi potete vedere in tempo reale questa interfaccia che sembra il defrag di Windows 98, quali sono appunto i test che ancora falliscono. Però insomma, vedete che ormai manca veramente poco, quindi probabilmente dalla prossima release di Next. Sarà presente anche Turbo Pack. Bene, poi arriviamo alla feature che ha più dato preoccupazioni apparentemente al mondo JavaScript, ovvero quello che riguarda le mutation, cioè la nuova modalità di Next.js per gestire, almeno una modalità suggerita, per gestire le mutation sul server. Ricordiamo naturalmente che Next.js è un framework basato su React, non l'ho detto, l'ho dato per scontato, ma insomma un framework basato su React, che fondamentalmente aggiunge a React tutta una serie di feature server-based, come il routing, il caching, eccetera. E tra l'altro prende alcune caratteristiche da React Canary, che è il branch di sviluppo di React, che non è rilasciato in versione stable per i consumatori, per gli utenti di React, per i developer di React, ma è considerato stable invece per i framework che si basano su React. Quindi questo branch Canary contiene alcune caratteristiche che Next.js è andato a prendere per la sua versione 14. Tra queste c'è server actions, quello che viene definito server actions. Sapete che con React 18 erano arrivati i server components e Next.js li aveva ovviamente fatti propri nella scorsa versione di Next.js, e la versione 13, insomma, i server components erano molto presenti e se ne parlava molto. In questa versione c'è un passo avanti che viene chiamato server actions. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di uno stesso file possono convivere dei componenti client e delle funzioni server, delle funzioni che vengono eseguite sul server. Quindi il bundler è in grado di capire, a partire da un unico file, quali sono le parti che vanno deployate sul server e lasciate sul server ed eseguite sul server, e quali sono invece quelle che vanno servite al browser, prive naturalmente della parte server, e mette in comunicazione queste due parti. Come lo fa? Lo fa leggendo, se voi specificate in una funzione, la stringa useServer. Quindi con useServer il bundler identifica quella funzione come una funzione che deve essere eseguita sul server e non sul client. Cosa comporta questo? Beh, che potete chiamare da un componente client una funzione che in realtà avete scritto nello stesso file, ma verrà eseguita sul server. L'esempio che fa Next è quello di un form dove c'è l'action handler, in questo caso specificato con il nome create, e la funzione create è scritta nello stesso componente che voi state scrivendo, ma al suo interno inizia con useServer. Quindi tutta quella funzione lì verrà eseguita lato backend. E quindi lì dentro può esserci logica backend. Ad esempio può esserci un qualcosa che scrive dati sul database, quindi una mutation. E ci si può spingere addirittura a scrivere del codice SQL, naturalmente usando un connettore al database. Ed è questo che ha fatto un po' incacchiare parecchi puristi della separation of concerns di programmatori frontend e backend che sono preoccupati dei design pattern. Perché l'esempio che Vercel ha deciso di utilizzare per mostrare questa funzione al pubblico è di, invece di separare appunto la logica del backend in una funzione che poi è richiamata da un handler in un componente, ha deciso di mettere la funzione direttamente dentro il componente. Quindi ha fatto vedere un button con un form action e dentro il form action, invece di mettere il nome della function da chiamare, ha scritto direttamente il body della function con useServer. Con dentro, addirittura per spingersi oltre e flexare la logica backend, ha messo del codice SQL, quindi il codice SQL, con un insert in una tabella. Quindi il risultato è che voi avete un componente frontend, un button, con dentro scritto dell'SQL di con logica backend. Questa roba naturalmente è bruttissima da vedere e non è un pattern consigliato da Next o da Vercel, è semplicemente un modo per mostrare che cosa fa questa roba qua. Cioè vi togliamo dei layer di astrazione per farvi vedere in pratica cosa sta succedendo. Cioè da un button, invece di chiamare un API per esempio, state direttamente chiamando la function che esegue quel codice. Ecco, devo dire che io mi sono molto divertito a vedere i meme, a leggere un po' di discussioni su quanto sia ridicolo questo approccio, perché naturalmente i giovani programmatori che si affacciano oggi al mondo del frontend framework che usano Next non imparano delle caratteristiche fondamentali della programmazione come appunto i principi base, tra cui quella della separazione delle responsabilità in settori, segmenti dell'applicazione e va bene. Però pensandoci un attimino, io non voglio difendere Vercel naturalmente, cosa che non mi compete, tra l'altro la criticherei anche spesso per altre scelte che fa, però mi sento di quantomeno di dire una cosa rispetto a tutte queste polemicone che sono uscite su questo particolare modo di scrivere codice. Vorrei far notare che in questi ultimi anni ci siamo sempre più allontanati dalle astrazioni e siamo andati invece sempre di più alla ricerca di semplificazioni, anche nella comunicazione tra client e server, ma anche nella separazione di responsabilità tra back-end front-end, tra presentazione e business logic, tra modello e view. Insomma, questo l'abbiamo fatto e cito alcuni esempi. Mi viene in mente QUIC, innanzitutto, un framework che è sulla cresta dell'hype, un framework che ha portato grandissime innovazioni nel mondo JavaScript, naturalmente la resumability come prima cosa, bene, il suo framework back-end che è QUIC-City si presenta nella sua documentazione con questi esempi, qui sono root action. La root action, specificata con il dollaro alla fine, è una funzione che viene eseguita sul server, quindi tutto quello che c'è nel body di questa funzione è logica server-side. Nella documentazione c'è proprio l'add di un utente, quindi una scrittura sul database, una mutation. Quindi, esempio della documentazione di QUIC, c'è il componente definito con un form che nel suo action handler chiama appunto la mutation presente che verrà eseguita sul server. Quindi abbiamo un componente front-end che viene mandato al client che, cliccando su una submit di questo form, chiama una funzione back-end che è scritta nello stesso file. Non è esattamente lo stesso esempio di next, solo scritto con una sintassi diversa? Insomma, a me pare che ci si possa ragionare. E questa roba qua non ha visto, ecco, l'alzata di scudi e neanche tutta la serie di meme che sto vedendo uscire in questo momento su Versa, quindi mi pare che bisogna un attimino ragionarci sopra. Ne porto un altro, di esempio, porto quello di TRPC. Il TRPC è un protocollo che permette di comunicare rapidamente tra componenti di un'applicazione via TypeScript. In realtà la comunicazione avviene via HTTP e anche qui nel quick start della documentazione si fa riferimento a una procedura di mutation, quindi alla creazione di un utente sul database che viene chiamata lato client semplicemente invocando il metodo mutate di una funzione user create che è stata importata da codice back-end, quindi viene scritta, viene chiamata direttamente dal codice front-end, ma è una funzione che è stata scritta nel back-end. Anche qua mi sembra che la separation of concerns sia un attimino a rischio. Vogliamo dire altro? Vogliamo dire che gli Svelte components sono dei file che contengono al loro interno JavaScript, HTML e CSS, quindi tutto il codice, la business logic, la logica di presentazione, la logica di struttura del mark-up all'interno dello stesso file, e sono anche qua forse separation of concerns. E infine, ma questa critica è giusto per palati fini, con Tailwind CSS, in questo caso voi andate direttamente nel vostro mark-up, che dovrebbe contenere soltanto la struttura del documento, in realtà gli mettete dentro anche le classi di Tailwind che contengono lo stile, quindi mischiate struttura e stile. Non c'è separation of concerns anche qua, vabbè, questa è proprio una finezza, eh. Insomma, cosa voglio dire alla fine, tornando a Next.js 14? Certo, l'idea di scrivere codice back-end direttamente nell'ender di un form, di un componente per il client, non mi fa impazzire a livello di proprio pattern architetturale, però d'altra parte vi ho portato un po' di esempi in cui siamo andati nella stessa direzione e non ho visto tutta questa sollevazione popolare sulla separation of concerns, che tra l'altro è una parola che non sentivo da anni, sono ricicciate fuori adesso. Mi pare che sia più che altro un bersaglio facile a in questo momento Vercel per delle decisioni un po' controverse che ha preso ultimamente. Next.js, di fatto è vero, sta un po' fagocitando React, sta un po' imponendo dei pattern allo sviluppo web che possono non andare a genio a molti puristi. Trovate un bel articolo, adesso non ce l'ho qui, ma un bel articolo di Kent C. Dodds, che invece è uno dei sviluppatori di Remix, che è un altro framework basato su React, che spiega perché non usa e non userà Next.js, per una serie di motivazioni assolutamente valide e condivisibili. Però insomma, vi ho un po' spiegato che cosa porta la nuova versione di Next.js, ho cercato di dire la mia su questa controversia, spero che porti un po' di valore alla discussione. Ieri tutti i principali magazine dedicati all'informatica, alla tecnologia online, hanno parlato dell'ordine esecutivo di Biden sull'AI, quindi l'executive order, sull'AI safety. E vado a prendere un articolo di IEE Spectrum, che ne parla, cita alcuni punti principali, così insomma andiamo a vedere quali sono i principi fondamentali che guidano questo ordine esecutivo. Quindi partiamo dicendo appunto che molti esperti hanno detto che questo, ecco, ordine esecutivo è un considerevole passo avanti. E tra l'altro è un ordine che viene nel contesto di molte regolazioni che stanno avvenendo in giro per il mondo, proprio sull'AI, cioè quella dell'Unione Europea naturalmente, che si chiama AI Act, che vedremo insomma adottate nel corso di quest'anno o del prossimo, e di cui abbiamo già parlato in alcuni episodi. Poi la Cina, che sta mettendo insieme alcune regolazioni per appunto l'AI generativa, e altri paesi che stanno arrivando in questo momento, come Canada, Brasile e Giappone. E cosa c'è in questo ordine esecutivo? Adesso non abbiamo ancora il testo completo, ma un elenco di punti principali. Allora, intanto ci sono iniziative relative alla sicurezza. Per esempio, il National Institute of Standards and Technology, quindi il NIST, proporrà degli standard rigorosi per il testing red team, che sarebbe l'equivalente del penetration testing, ecco, per essere sicuri che un prodotto rilasciato al pubblico raggiunga degli standard, certi standard previsti. E un'altra invece iniziativa, dice che le compagnie dovranno informare il governo se stanno generando, allenando un foundation model, che sono quelli tipo GPT, no? Dove prendono tanti dati per poi generare un'AI che sia generica, che possa essere sfruttata in vari contesti, come il testo o immagini e altri tipi di contesti. Ecco, in questo caso, se stanno usando un foundation model, dovranno notificare il governo nel caso in cui questo modello possa comportare rischi per la popolazione e quindi anche mostrare i risultati del testing dei red team. Inoltre, l'ordine va a discutere dei diritti civili, dicendo che il governo federale deve mettere, in pratica, deve stabilire delle linee guida per prevenire i bias dell'algoritmo, che sono quelli che conosciamo molto bene. Il professore universitario di informatica della Brown University, ora dovrò pronunciare questo nome, abbiate pietà, Suresh Venkatasubramanian, spero, eh? Che è uno degli autori del Blueprint 2022 per l'AI Bill of Rights, ha detto appunto che questo ordine esecutivo è un impegno importante, va nella giusta direzione e va proprio a costruirsi sopra la base di quel Blueprint che aveva dipinto l'AI come un problema di diritti civili. Ma aggiunge anche che spero che ci saranno ulteriori regolazioni in questo senso. Un'altra esperta che si è esposta è Cynthia Rudin, che è una professoressa della Duke University, che è preoccupata dalle tecnologie di AI che usano dati biometrici, come per esempio i sistemi di riconoscimento facciale. E dice che appunto non è ancora chiaro come la privacy sarà applicata a questi modelli che usano, ecco, dati biometrici. Un altro punto importante nel panorama delle AI generative è come aiutare la popolazione a distinguere quello che è vero da quello che è falso, cioè dato reale da quello generato dalle AI. Ebbene, questo ordine va a chiedere al Dipartimento del Commercio di scrivere delle linee guida per l'autenticazione del contenuto e il watermarking per etichettare chiaramente il contenuto AI generated, che sembra una buona cosa, ma Rudin aggiunge che anche se ci sono delle ricerche considerevoli su come aggiungere il watermark alle immagini e i video deepfake, non è ancora chiaro come aggiungere il watermark ai contenuti testuali e quindi è anche scettica che questa tecnologia possa avere successo. Susan Ariel Aronson che è una professionalista di affari internazionali alla George Washington University che lavora su dati e AI governance dice che questo ordine è un ottimo inizio, ma è preoccupata che questo ordine non vada, non faccia abbastanza per settare delle regole governative per i dataset che le compagnie usano appunto per allenare i propri sistemi. Concludere l'articolo di Spectrum, questo ordine arriva pochi giorni prima del AI Safety Summit che si terrà nel Regno Unito che è una conferenza, un convegno internazionale di ufficiali governativi e manager di AI, di aziende AI, per discutere dei rischi relative alla perdita di controllo ecco, sugli modelli di AI generativa e sarà presente anche la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris a questo evento. Se siete interessati all'argomento vi consiglio di leggere anche un articolo del MIT Technology Review che si intitola Tre cose da sapere a proposito dell'ordine esecutivo sull'AI della Casa Bianca. Io vi cito soltanto un estratto che ho messo verso la fine. Ecco, visto che abbiamo parlato di reazioni del mondo universitario, qui si citano anche reazioni del mondo delle tech company e in generale pare che ci sia una reazione positiva a questo order. Brad Smith che è vicepresidente di Microsoft l'ha accolto come un passo avanti critico nella governance delle tecnologie AI. Il presidente degli affari globali di Google Kent Walker ha detto che la compagnia non vede l'ora di appunto iniziare a lavorare con le agenzie governative per massimizzare il potenziale delle AI anche per rendere appunto migliori i servizi governativi più veloci e più sicuri. E consigliere generale di Adobe Dana Rao ha detto che è bello vedere che la Casa Bianca sta investendo nella crescita dell'AI creando un framework per pratiche AI responsabili. Quindi in tutto questo l'articolo di MIT dice che l'approccio della Casa Bianca rimane amichevole alle compagnie della Silicon Valley concentrandosi sull'innovazione e sulla competizione invece che sulla limitazione e la restrizione. e comunque alcuni ricercatori degli AI torniamo quindi in ambito universitario dicono che questo tipo di approccio è causa di qualche preoccupazione e una delle preoccupazioni più grandi è che questo ignora un sacco di lavoro su come allenare e sviluppare i modelli per limitare danni successivi e infatti sembra un po' che questo ordine esecutivo sia più improntato al risolvere eventuali problemi che emergano dopo invece di concentrarsi sul rendere migliore la generazione di questi modelli per prevenire eventuali problemi ecco e non potevo naturalmente non citare l'evento Apple di ieri intitolato Scary Fest che sarebbe traducibile come qualcosa di spaventosamente veloce in effetti un evento molto veloce dove Apple ha rapidamente presentato alcune novità vado a prendere un articolo di The Verge come al solito che fa un po' di sommario così le vediamo velocemente in primo luogo c'è una nuova linea di chip M3 appunto M3 M3 Pro e M3 Max che sono i primi chip i primi processori costruiti usando il processo a 3 nanometri e oltre ad offrire una CPU molto più veloce e molto più efficiente arrivano anche con una nuova GPU che supporta Ray Tracing Mass Shading e Dynamic Caching ora i chip M3 arrivano con fino a 128 GB di memoria unificata il chip più potente M3 Max arriva con fino a 92 miliardi di transistor una GPU da 40 core e una CPU da 16 core poi arriva il nuovo iMac da 24 pollici appunto equipaggiato con il chip M3 che Apple dice essere due volte più veloce del predecessore che era equipaggiato con il chip M1 oltre a questo nuovo chip i nuovi iMac avranno una retina display da 4.5K con più di un miliardo di colori il supporto al Wi-Fi 6E e una webcam da 1080p oltre ad avere 24 GB di memoria unificata e arrivare in 7 colori il iMac da 24 pollici costerà 1299 dollari con una CPU da 8 core oppure 1499 dollari con una chip da 10 core poi vedremo i prezzi in euro naturalmente molto più alti parliamo invece dei MacBook Pro ci sono un nuovo paio di MacBook Pro da 14 e da 16 pollici che arrivano con l'M3 Pro oppure con l'M3 Max entrambi hanno un display mini led una camera da 1080p un sistema da 6 speaker una batteria da 22 ore e fino a 128 GB di RAM e sono anche disponibili con una colorazione in nero siderale il modello da 14 pollici con M3 Pro parte da 1999 dollari mentre il modello da 16 con M3 Pro parte da 2499 dollari infine arriva un nuovo MacBook Pro entry level diciamo con un chip M3 di base che costerà 1599 dollari e rimpiazzerà il modello da 13 pollici MacBook Pro con M2 la touch band non esiste più quindi è stata completamente deprecata quindi ora ci sono soltanto tasti fisici e il problema di questo MacBook Pro diciamo economico è che arriverà con 8 GB di RAM vado anche sull'articolo di dday.it che va a fare il punto su questi nuovi annunci vi leggo qualcosa sulla GPU che dove appunto si parla di dynamic caching Apple parla di grande passo avanti in termini di architettura grafica per i chip Apple e questo passo vede il debutto di ray tracing con accelerazione hardware e mesh shading anche lui accelerato a parità di performance secondo Apple la GPU del chip M3 consuma quasi la metà di quella del chip M1 e raggiunge prestazioni di picco fino al 65% superiori e poi si parla di dynamic caching che alloca in tempo reale l'uso della memoria locale nell'hardware secondo Apple questa novità costituisce la base della nuova architettura della GPU ed è grazie a lei che si ottiene il più grosso salto prestazionale il tutto ovviamente unito alla presenza della memoria unificata che sui nuovi processori M3 è stato incrementato ulteriormente arrivando a 128 GB su M3 Max nell'articolo ho trovato poi un po' di dettagli tecnici su questo nuovo hardware su questi nuovi device ma vediamo un po' i prezzi italiani di questi MacBook Pro il MacBook Pro da 14 con chip M3 parte da 2049 euro il 14 con chip M3 Pro parte da 2599 euro mentre il Pro 16 parte da 3099 euro concludiamo con i prezzi degli iMac l'iMac con GPU da 8 core sarà in vendita a partire da 1629 euro mentre l'iMac con GPU 10 core partirà da 1859 euro questo è un po' per farvi capire i prezzi italiani e naturalmente mi sono preoccupato di andare a vedere se il panno per la pulizia da 25 euro di Apple è stato aggiornato come compatibilità ai nuovi Mac M3 ebbene si è stato aggiornato all'iMac da 24 pollici con M3 ma non ai MacBook M3 quindi attenzione se comprate un MacBook M3 probabilmente dovrete cambiare anche il panno per la pulizia perché non è listato nella compatibilità quindi questo potrebbe essere un problema per alcuni di voi ve lo segnalo allora chiudo perché il mal di golla mi sta veramente attanagliando e continuo a tossire fortunatamente non lo sentite perché lo taglio ma è una cosa imbarazzante prima però di andare via vi voglio segnalare una cosa che il buon Martino Fornasa mi ha appunto fatto conoscere all'ultimo Codemotion che è un progetto personale che ha lanciato in questi giorni si chiama eventitech.it ed è super interessante perché è un elenco appunto come dice il nome di eventitech che si svolgono in Italia che potete filtrare appunto i prossimi terminati quelli con CFP aperta dove il buon Martino mette insieme proprio gli eventi che trova in un elenco a cui potete anche iscrivervi come newsletter e potete anche contribuire aggiungendo un vostro evento o suggerendo un evento da aggiungere ecco così avete una bella un bello elencone di eventi tra l'altro filtrabili anche per città insomma e credo che mancasse un sito così tra l'altro ben fatto in Italia con gli elenchi di tutti questi di tutti questi eventitech quindi complimenti Martino lo volevo segnalare perché secondo me è una cosa molto carina ora davvero vi saluto domani non ci vedremo naturalmente perché è festa probabilmente spero se la salute me lo concederà ci vedremo giovedì grazie per avermi seguito spero tutto sommato venga fuori una buona puntata e niente io davvero la chiudo qua ciao ciao